Ben trovati con buona salute del mese di settembre, la rubrica quotidiana di informazione sanitaria a cura della SST della Valcamonica. In questo numero il direttore generale dottor Raffaello Stradoni parla del finanziamento straordinario di Regione Lombardia per nuove assunzioni urgenti di personale per far fronte alle crescenti esigenze della SST. Ringrazio anche lo Stavo dell'ospedale di Edolo per i lavori urgenti che si sono svolti in queste settimane a fronte dei quali è stata data una risposta adeguata, presente e attenta a tutti coloro che ne hanno avuto necessità. Quindi viene dato il benvenuto al nuovo direttore sanitario dottor Fabio Paiola. Infine con particolare soddisfazione viene presentata l'attività dell'unità operativa complessa di ortopedia e traumatologia dell'ospedale di Edolo che in questi mesi di forte flusso turistico ha saputo far fronte alle emergenze quotidiane. Buona visione. Per il personale è una richiesta che avevamo portato avanti da tanto tempo perché appunto siamo in difficoltà con i livelli di assunzione del personale dipendente quindi Regione Lombardia facendo un grande sforzo di cui ringraziamo sia i funzionari regionali che i nostri rappresentanti che ci hanno davvero dato una grande mano ha concesso appunto questo finanziamento straordinario che ci consentirà di fare qualche assunzione in più per quest'anno ma soprattutto poi di averle stabilizzate per l'anno successivo cioè per il 2019. I lavori su Edolo stanno andando molto bene nel senso che la chiusura estiva ci ha permesso di riorganizzare e rimettere in ordine le sale operatorie che quindi sono state riattivate ma soprattutto stanno ultimando i lavori di preparazione per la nuova macchina radiologica che verrà installata fino a ottobre in pronto soccorso e che ci consentirà poi di partire contestualmente con i lavori di ristrutturazione sia per il milione e mezzo per la parte antincendio sia i lavori di ristrutturazione per la radiologia. Questo consentirà in giro di un anno e mezzo di avere l'ospedale di Edolo completamente rinnovato e quindi di avere una struttura che potrà funzionare in tranquillità per i prossimi 5, 10, 15 anni. Voglio ringraziare anche tutti gli operatori perché c'è stato veramente un carico di lavoro straordinario a cui però la struttura ha fatto fronte molto molto bene. Non c'è stato disagio per la popolazione nonostante appunto i livelli di lavoro in estate aumentino e aumentino consistentemente e di questo devo ringraziare proprio ancora una volta tutte le maestranze. Mantovano, 58 anni, laurea in medicina e chirurgia a Padova, specializzazione in anestesia e rianimazione a Verona, specializzazione in igiene e medicina preventiva, approfondendo la disciplina dell'organizzazione dei servizi ospedalieri, con numerosi corsi di formazione manageriale nelle organizzazioni sanitarie, Fabio Paiola dal 15 luglio è il nuovo direttore sanitario della SST della Valcamonica e, da subito, ha espresso giudizi molto importanti e positivi verso l'organizzazione di servizi che la sanità camuna sa esprimere sul territorio. Al primo posto del suo urgente e delicato lavoro c'è, come per tutta la sanità ad ogni livello, la riduzione dei tempi di attesa di prestazioni sanitarie ed esami forniti dal pubblico. Abbiamo un progetto di incremento per quanto possibile rispetto ad un budget che è stato recentemente assegnato in incremento di assumere figure strategicamente importanti e che possano aumentare la loro disponibilità e di conseguenza ridurre le liste d'attesa. Quindi due importanti obiettivi a breve e medio termine riguardano l'ospedale di Edolo e il rinnovo dei contratti per il laboratorio di analisi. Mi impegnerò in prima persona perché questi lavori diano il minimo intralcio all'attività ordinaria per quanto possibile. Qualche disagio ci sarà, ma cerchiamo di minimizzare i disagi per consentire l'effettuazione dei lavori nel più breve tempo possibile e al meglio. Come esempio di eccellenza nella sanità camuna, dottor Paiola cita l'alta performance del punto nascita di Esine. Che si qualifica per essere uno dei pochi in Italia in controtendenza rispetto al calo complessivo delle nascite. Il nuovo direttore sanitario della SST della Valle Camonica giudica poi come estremamente importante la sinergia che in questi giorni è emersa nel territorio con richieste e proposte a Regione Lombardia in tema di sanità. È molto importante che ci sia una sinergia tra tutte le forze che devono cercare di valorizzare queste importanti risorse che è la sanità camuna. Questa compattezza da parte di vari stakeholder della Valle Camonica ci ha permesso di ottenere importanti risultati rispetto all'assegnazione di bilancio. Uno degli stakeholder fondamentali è il medico di medicina generale con alcuni di loro. Abbiamo già cominciato a interfacciarci perché non possiamo in nessun modo prescindere dalla loro collaborazione. Oltre dunque alla qualità dei medici camuni, un'ulteriore sorpresa positiva è quella che emerge da personale sanitario non medico. Un ruolo estremamente importante riguarda la componente del SITRA, del servizio infermeristico tecnico e riabilitativo. Con l'arrivo del dottor Paiola si ricompone così la squadra che forma la direzione strategica della sanità camuna che dedicherà la prima parte della giornata alla programmazione generale e dalle delibere da assumere e la seconda parte agli interventi specifici nei vari settori. Nel mese di settembre l'ortopedia traumatologia dell'ospedale di Edolo riapre l'attività chirurgica di sala operatoria che era stata momentaneamente sospesa per i passati due mesi per un inizio di ristrutturazione che proseguirà anche per tutto l'inverno non tanto relativa al nostro reparto che tocca parzialmente il nostro reparto ma che soprattutto rinnova profondamente la radiologia con la disponibilità di apparecchi radiologici che quindi indirettamente favorirà anche la possibilità per noi ortopedico traumatologico di usufruire di tecnologie sempre migliori per la diagnosi. Riapre quindi l'attività operatoria della quale noi trattiamo tutti i casi di ortopedia e di traumatologia quindi intendendo questo come spalla, ginocchio, anca, piede, caviglia e ovviamente arti superiori ed arti inferiori, non trattiamo chirurgicamente ma solo dal punto di vista medico la colonna vertebrale come patologia, facciamo protesica sia di ginocchio sia d'anca, abbiamo una lunga tradizione di chirurgia artroscopica sui legamenti sia di ginocchio, di spalla e anche di caviglia e abbiamo un'ottima qualità anche sulla traumatologia della quale abbiamo anche un'unità operativa diretta dal collega, il dottor Romeo. Storicamente la traumatologia di questo ospedale si occupa di fratture a carico degli arti superiori e degli arti inferiori. Abbiamo una lunga esperienza sulle fratture a carico del gomito, polso, mano, spalla e per quanto riguarda l'arto inferiore direi che il ginocchio, la gamba e la caviglia sono i distretti anatomici principalmente coinvolti nella traumatologia. Questo perché ovviamente il territorio montano in cui siamo calati ci porta ad essere leader in questa patologia. Un ospedale che ovviamente è alla base di due grandi comprensori sciistici, aprica e ad amello tonale, nonché ovviamente d'estate gli innumerevoli turisti che vuoi per attività obbistiche, ludico, vuoi per attività sportive si trovano in un ambiente in cui riportare traumi agli arti risulta essere estremamente frequente. E noi ovviamente ci avvaliamo in accordo con le linee guide dettate dalle società internazionali di traumatologia delle metodiche migliori con strumentazioni e presidi medico-chirurgici di ultima generazione. Ancora una parola sulla mia equip. Nella mia equip è presente oltre al dottor Romeo anche il dottor Mariani ed il dottor Guarneri che completano così un'equip di quattro persone che fornisce reperibilità per tutti i giorni della settimana e per tutti i festivi.